Progetto ADAM, adattamento al cambio climatico con irrigazione multifunzionale per la viticoltura. All'interno di questa terza sezione di interventi verranno presentate le sperimentazioni condotte e i risultati ottenuti nella gestione della nutrizione idrica e del monitoraggio dello stress idrico. In particolare, in questo capitolo ci soffermeremo sulla formulazione dei protocolli per la gestione dell'irrigazione a goccia. L'irrigazione a goccia è stata gestita con due obiettivi distinti. Il primo obiettivo è l'irrigazione umettante, che è stata ottimizzata tramite il controllo dello stato idrico del suolo nelle parcelle sperimentali, per garantire un regolare sviluppo vegetativo della vite e per favorire la migliore maturazione dell'uva. Inoltre, è stata sperimentata anche l'irrigazione a goccia notturna in previsione delle ondate di calore. Lo scopo di questo tipo di irrigazione è quello di riportare il suolo in condizioni di elevata disponibilità idrica, al fine di consentire un'intensa attività traspiratoria delle piante e un incremento dell'effetto di termoregolazione della chioma durante l'evento critico. L'attivazione dell'irrigazione umettante avviene sulla base del contenuto idrico del suolo. Questo dato di contenuto idrico viene misurato in tempo reale all'interno delle parcelle sperimentali irrigate a goccia e a goccia più spruzzatori. Il dato viene poi inviato alla stazione agrometeorologica che regola l'attivazione automatizzata dell'irrigazione. In particolare, il criterio di attivazione dell'irrigazione umettante prevede che questa venga attivata quando il contenuto idrico del suolo monitorato scende al di sotto di una certa soglia di stress idrico. Il contenuto idrico del suolo che è stato preso come riferimento è quello misurato tra 25 e 65 cm di profondità nelle due parcelle sperimentali. La scelta è stata fatta sulla base dell'analisi dei profili di umidità delle due parcelle e in particolare sono stati esclusi gli strati più superficiali perché non contengono le radici attive della vite. La soglia di stress idrico al di sotto della quale viene attivata l'irrigazione umettante è stata invece valutata sulla base di due fattori. Per prima cosa è stata fatta un'analisi delle proprietà idrologiche del suolo eseguita su campioni raccolti a 30 e 60 cm di profondità nelle parcelle sperimentali. Il secondo fattore considerato è stata la fase fenologica della vite. È nota infatti una maggiore suscettibilità allo stress idrico nella fase tra fioritura e invaiatura rispetto alla fase successiva tra invaiatura e maturazione. Per questa ragione sono state fissate due soglie di stress idrico distinte, una più cautelativa per la prima fase e una meno cautelativa per la seconda. L'intervento di irrigazione umettante viene interrotto quando è stato verificato il repristino del contenuto idrico alla capacità di campo, che possiamo definire a grandi linee come la disponibilità idrica ottimale per la pianta. Nel caso di irrigazione umettante, questo ripristino avviene dopo 6 ore di intervento con un apporto irriguo di circa 10 mm. Il protocollo per la gestione dell'irrigazione notturna a difesa dagli eccessi termici estivi prevede che i gocciolatori vengano attivati se per il giorno successivo sono previste temperature superiore ai 35 gradi con assenza di precipitazioni. Inoltre, per ridurre i consumi idrici, l'irrigazione viene attivata solo quando il contenuto idrico del suolo si trova al di sotto di una certa soglia, impostata in modo più cautelativo rispetto a quella dello stress idrico. L'irrigazione, come nel caso precedente, viene interrotta al ripristino del contenuto idrico alla capacità di campo. In questo caso sono sufficienti 4 ore di intervento con un apporto irriguo di circa 6,5 mm. Per avere altre informazioni relative al progetto ADAM, vi invitiamo a visitare il sito www.adamdisa.eu 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 www.adamdisa.eu